Sì Ah, eccolo, eccolo! Ma è folle sta roba! Motion sickness! Ma è bellissimo! Guarda, guarda le proiezioni! Ma è bellissimo! C'è la migliore flat ride di sempre! Eh, guarda che roba! Ti giuro, me lo comodamente dimenticato sta roba! Ma è bellissimo! C'è pure più airtime di Silver Star, eh, cioè! Madonna! Ma va che c'è la temporale! Madonna, ma cos'è? Prendiamo tipo i bump sideways. Ah, laterale airtime! Ahem! 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 E niente mi sa che siano crepati Non è finita bene la proiezione Bellissima cazzo questa cosa Bellissima cazzo questa cosa